La correzione fraterna è un aspetto dell'amore e della comunione che devono regnare nella comunità cristiana. È un servizio reciproco che possiamo e dobbiamo renderci gli uni agli altri. Così Papa Francesco, prima della preghiera dell'Angelus recitata con i fedeli, raccolti in piazza San Pietro, ha commentato il Vangelo di questa domenica che presenta il tema della correzione fraterna tra i credenti. Gesù ci insegna, ha spiegato il Papa, che se il mio fratello commette una colpa contro di me, io devo usare carità verso di lui e prima di tutto parlargli personalmente, spiegandogli che ciò che ha detto o fatto non è buono. Poi se non ascolta si possono far intervenire altre persone o tutta la comunità. Il Signore chiede lo sforzo di accompagnare chi sbaglia affinché non si perda, evitando il clamore della cronaca e il pettegolezzo della comunità, evitando che le parole possano ferire e uccidere il fratello. Lo scopo è quello di aiutare la persona a rendersi conto di ciò che ha fatto e che con la sua colpa ha offesso non solo uno ma tutti, ma anche aiutarci noi a liberarci dall'ira o dal risentimento che fanno solo male, quella amarezza del cuore che porta l'ira e il risentimento e che ci portano a insultare e aggredire. Ma è molto brutto vedere uscire dalla bocca di un cristiano un insulto o un'aggressione. È brutto, capito eh? Niente insulto. Insultare non è cristiano. In realtà, ha concluso Papa Francesco, davanti a Dio siamo tutti peccatori e bisognosi di perdono. La stessa coscienza che mi fa riconoscere lo sbaglio dell'altro, prima ancora mi ricorda che io stesso ho sbagliato e sbaglio tante volte.